buongiorno a tutti ragazzi e oggi noi porteremo un video richiesto da un mio compagno di scuola agostino agostino filippone filippone filipponi e mi ha chiesto di usare ma che diavolo? lui blue beetle contro lui robin e lo andremo a fare qui a gorilla city mortano anche se avverto che questo video l'avevo già registrato ma è meglio se lo porto a telecamera così e poi anche perché ho visto la nuova skin che è una delle migliori skin mai fatte nei film della DC e porco giuda mio caro robin che non sei quella ah vedi un po' che comodo no perché non hai fatto pomo perché che male va bene però perché non fai le gomme così mi piace così mi piace va bene e chi se ne frega eeeh ma vabbè chi se ne oh mio dio guarda che anche io ho le spade brutto scemo come ti permetti di come ti permetti di aver di aver dubitato il Batman non insegnamelo tutto dito si mai e chi se ne frega va bene però è sempre a me così va bene non mi otterrai ehm vedo un po' questo qui no ma almeno almeno te non sai cos'è che almeno non sai non lo sai almeno te che cosa non hai robin falso che te non hai la gentilezza e sei un grandissimo figlio di zoccola perché la con il la lega degli assassini e poi perché sei anche un po' stronzo di tuo esatto e questo te lo meriti no quasi no quasi combo ma fa bene ah sta già un grande zoccola no quasi ah vaffan bene eeeh e vaffan anzi mi picchia un attimino mi picchia un attimino mi picchia un attimino e vaffan bene così voglio vedere vabbè chi se ne frega perché è allo stesso modo non lo so ma chi se ne frega La vittoria di Blue Beetle E tu verrai in prigione 42 sono arrivato Non di livello del personaggio Ma in generale E porco Giuda Spero che questo video ti sia piaciuto Ma andando oltre Aspettate un attimo Comunque spero che questo video ti sia piaciuto